Israele e Palestina con l'intervento video del nostro ospite fisso Guglielmo Cevolin, presidente di Istoria e dell'IMES Club di Pordenone, Udine e Venezia, che fa il punto della situazione. Guglielmo Cevolin, presidente dell'Istoria e dell'IMES Club, insomma lo scenario a livello europeo ma non solo e non fa presagire il meglio, conflitti ancora in atto nei quali si inseriscono anche Europa, Stati Uniti ma non solo. Ecco, abbiamo avuto l'impressione di un impasse totale delle Nazioni Unite sulla questione Israele-Hamas, due risoluzioni contrapposte, quella della Russia che chiede una tregua, e la Russia, teniamolo ben presente, che chiede una tregua a Israele nei confronti di Gaza e di Hamas, e invece gli Stati Uniti che hanno dichiarato che Israele è uno Stato che ha diritto di difendersi, e tra l'altro poi fuori dalla risoluzione gli Stati Uniti hanno detto che appoggeranno pienamente Israele nell'iniziativa di reazione all'attacco di Hamas. Le Nazioni Unite sono entrate in impasse anche nei rapporti tra il segretario Gutierrez e Israele. Israele ha chiesto le dimissioni perché Gutierrez ha sì condannato l'attacco terroristico di Hamas, però poi ha dato delle giustificazioni facendo forse anche uno scivolone perché ha detto che Gaza è occupata da tanti anni. è vero che c'era qualche israeliano prima a Gaza, ma adesso dal 2005-2008 in poi non c'è più nemmeno un israeliano a Gaza, che è vero, che è sigillata, che crea una situazione di disperazione e così via, però da questo dire che Israele occupa Gaza non è vero. E' vero che Gaza è stata attaccata da Israele dal 2008 in poi 7-8 volte, ma come reazione agli attacchi missilistici. Vero è che Israele ha a Gaza 30.000 terroristi nemici sotto i tunnel e qualcosa deve fare. Questo è il problema, qualcosa deve fare, nel senso che Netanyahu ha dichiarato che farà di sicuro l'attacco a terra. Parte della comunità internazionale sconsiglia di fare questo attacco, ovviamente per un tentativo di intavolare qualcosa di pacifico, ma temo che siamo molto lontani. Gli Stati Uniti hanno detto anche per evitare gli errori che gli stessi Stati Uniti hanno fatto, e cioè di non avere poi la soluzione, come in Afghanistan e come in Iraq. Cioè è inutile invadere e dopo non sapere come stabilizzare il paese, non avere una soluzione. D'altronde è un tema molto difficile da risolvere perché è inaccettabile che Gaza e i palestinesi siano rappresentati da Hamas. Hamas è un'organizzazione che ha defenestrato, letteralmente, ucciso i rappresentanti dell'autorità nazionale palestinese e ha fatto quello che ha fatto l'8 di ottobre e quindi non può certo presentarsi come soggetto che porta avanti due Stati, l'opzione di due Stati, proprio perché lo Stato che vorrebbe Hamas è uno Stato che sarebbe islamista, come l'Iran, uno Stato confessionale che vorrebbe come primo obiettivo eliminare dalla faccia della terra lo Stato di Israele. Ecco, sul fronte terroristico l'Europa dovrebbe prendere una forte presa di posizioni, insomma, su questo aspetto. Ma diciamo che l'Europa si è divisa anche lì, Michel e Borrell vogliono una decisione che adesso verrà presa tra oggi e domani con riferimento alla tregua, tregua umanitaria sulla quale anche Israele è d'accordo di dare qualche aiuto ai palestinesi di Gaza, però non può certo dare per esempio il gasolio perché il gasolio serve per alimentare l'aria nei tunnel e quindi sarebbe continuare la possibilità di questi terroristi da un lato di tenere i prigionieri e dall'altro lato di continuare a organizzare attacchi a Israele. Che cos'è la tregua umanitaria? La tregua umanitaria ha poi un sottinteso in realtà che Israele non faccia più l'operazione a terra dentro Gaza che sicuramente avrebbe molti morti tra i civili già probabilmente di più di quelli che già si sono verificati, circa 5.000 pare secondo i conteggi dei palestinesi ma di Hamas quindi sono conteggi forse un po' esagerati. Comunque sono tanti morti, bambini, una tragedia umanitaria che sta continuando anche già con i bombardamenti di Israele. Con un'operazione su terra potrebbero anche crescere, potrebbero esserci più danni e addirittura Israele potrebbe cadere in una trappola dalla quale poi non saprebbe più uscire. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale del Nord-Est che ritorna come sempre domani alle 10.00.